Stitch perché ha questa faccetta un po' particolare come il cartone animato, gli occhi un po' distanti, amandorla, il nasino all'insù e questa facciona un po' più grossa del corpicino. Lui è Stitch, un gatto davvero speciale, salvato ed accolto da casa Mau lo scorso agosto. Stitch infatti è affetto da nanismo. Ha varie patologie, non respira bene, anche i polmoni dobbiamo controllarli ogni sei mesi e quindi adesso ha l'esigenza di essere sterilizzato. Gli vogliamo fare degli esami particolari e comunque avranno un costo per cui chiediamo un aiuto da parte di tutti. Casa Mau è un'associazione animalista nata con il sogno di creare un'oasi feline in Valdichiana per essere un punto di riferimento per i volontari che si occupano di gattirandaggi, colonie e amici da salvare e a cui cercare casa. L'emergenza adesso, come ogni primavera, è quella dei gattini. Gatte che partoriscono e che comunque sia possono morire nella strada e i gattini rimangono da soli, quindi ci hanno chiamato ultimamente per cercare delle baglie. Le balie umane, sempre più necessarie in questo periodo dell'anno, si prendono cura dei gattini nel momento più delicato della loro vita per poi essere felicemente adottati. Fa tanti sacrifici. Prima cosa il latte è costosissimo, seconda cosa deve avere tanto tempo perché ogni tre ore i gattini devono essere allattati, quindi non avrà il tempo per dormire e poi comunque deve stargli dietro, c'è tanto sacrificio. Grazie a tutti.